Ciao da Luchi! Oggi ho da farvi vedere tantissime cose, tantissime cose targate Federica Evaristo in tre C preziosi. Allora, ho guardato il suo sito e mi sono innamorata delle forme delle sue borse e quindi ho deciso di acquistare per farvi dei relativi tutorial appunto dei suoi materiali. E vi assicuro che sono veramente di altissima qualità, altrimenti sapete che non ve li presenterei neanche, quindi quando io vi presento qualcosa è perché mi piace. Quindi non ho una collaborazione con Federica Evaristo, semplicemente ho acquistato, voglio farveli vedere e ho chiesto a lei se potevo farci dei tutorial. Mi ha dato il permesso, quindi vi ci farò anche dei tutorial. Lei è una creativa bravissima, per questo gliel'ho chiesto perché comunque poteva anche darle fastidio il fatto che io facessi tutorial che potrebbe tranquillamente fare lei, ma è stata così gentile da concedermelo e quindi sono qua a presentarvi i materiali con i quali avrete i prossimi tutorial. Vorrei partire con questa meraviglia. Allora, il kit comprende la chiusura, vedete, fatta in questo modo, quindi si ripiega e vi faccio vedere anche come funziona sulla patella, quindi in questo modo, quindi vi arriverà chiusura e patella, io in questo caso l'ho scelta bianca, i laterali e la catena da far passare in questi fori. Come cordino per questo kit ho scelto questo che è cigno italiano, allora lo apro vi assicuro, è veramente molto molto morbido vedete, volevo fare proprio una bella pochettina bianca e rossa direi che ci sta veramente bene è una pochettina dalle, come dice il nome, appunto Miss Baby dalle piccole dimensioni, quelle classiche che noi ci portiamo in giro d'estate la sera quando usciamo io la trovo veramente molto bella guardate com'è rifinita con precisione veramente bellissima i materiali sono ottimi, vera pelle e qua c'è appunto la catena che poi verrà inserita ora io non sto a aprire la catena perché poi io mi perdo le componenti e poi quando è il momento di farci tutorial mi sono persa i pezzi quindi questa questo kit che vi arriverà con laterali, catena, chiusura e patella si chiama Miss Baby mentre il filato che ho scelto io questo bel filato rosso è aspettate che me lo sono scritto perché ne ho presi talmente tanti con i nomi allora si chiama Cigno Italiano ed è veramente molto bello secondo me si può lavorare non l'ho ancora lavorato col 3 o col 3,5 poi dipende dalla vostra mano io non guardo mai cosa consiglia la casa perché ogni mano ha una diversa tensione e quindi un diverso modo di lavorare per me può occorrere l'uncinetto 3,3,5 per qualcuno che ha la mano strettissimo potrebbe utilizzare anche il 4 come chi ha la mano larghissimo potrebbe usare un uncinetto inferiore al mio quindi non do mai suggerimenti sugli uncinetti perché dipende molto dal vostro metodo di lavorazione dalla vostra mano quindi questo sicuramente sarà l'abbinamento di un prossimo tutorial un altro prossimo progetto sempre in treci preziosi perché tutto quello che vi sto mostrando oggi viene dal dal sito di in treci preziosi è questo allora questo è una si chiama banda pochette in questo caso il colore è ottanio e il kit comprende questa banda ovviamente vedete si apre in questo modo e avrete già visto le foto di una mia borsa fatta quindi di una mia pochette fatta in altro colore ma sempre con stesso materiale quindi il kit comprende la fascia con chiusura e il fondo anche questo di ottimissima pelle molto morbido molto bello color ottanio e per questo per questo kit ho scelto il tripolino slim in questo bellissimo marrone io adoro l'accostamento marrone e blu e penso che verrà fuori proprio una bellissima bellissima pochette vi dico bene sempre i nomi perché così se volete andare sul sito ed acquistarli sapete esattamente che cosa dovete cercare quindi questa sarà sicuramente un'altra delle novità che troverete sul mio canale questa è una tra le mie preferite allora la zipper girasole guardate qua che bella ha la sua cerniera è veramente bellissima molto estivo questo colore è veramente molto estivo e come potete vedere il kit prevede l'attaccatura con zip e la tracolla con i suoi bei morsettini da attaccare qui vedete ci sono gli agganci vi faccio vedere subito ecco qua per attaccare la vostra tracollina molto 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 bello e per questa zipper ho scelto il tripolino cammello guardate che bello che è anche questo molto molto morbido veramente molto bello si discosta pochissimo e mi piace molto questo contrasto il fatto che non sia proprio identico il colore mi piace tantissimo da un po' di luce ecco alla zipper e anche questo lo trovate appunto nella sezione dei filati di intrecci preziosi veramente molto bella anche questo prossimo tutorial tutto quello che vi sto facendo vedere sarà in un prossimo tutorial veramente bellissimi la qualità della pelle questo è leggermente più più rigido dei materiali che vi ho fatto vedere tipo questo rimane un po' più morbidino questo rimane leggermente più rigido più sostenuto non più rigido ecco la parola giusta è più sostenuto ed è molto veramente molto bello ora vi mostro questi due filati che sono molto molto belle sono delle bellissime rocche ed è cigno italiano questo è color pesca questo è color magenta poi ovviamente tutte le caratteristiche le trovate sul sito quindi metraggio e quant'altro le trovate sul sito di intrecci preziosi sono molto morbidi e luminosi guardate vi faccio vedere ecco qua sono veramente molto morbidi maneggevoli quindi facili da lavorare e molto luminosi questo l'ho usato come avrete visto dalle foto sul gruppo facebook creando e chiacchierando con luci per una pochette che poi vi metterò della quale vi metterò le foto quando realizzerò questa perché è la stessa ma in altro colore o magari vi metto la foto qua in alto adesso vediamo comunque ho realizzato quella e ne ho ancora e lo sto usando per un altro progetto mentre questo lo userò per un progettino che ancora non ho ben focalizzato ma queste componenti sono promettono bene devo dire la verità allora qui abbiamo una bellissima lappina tutta in pelle veramente molto bella rifinita benissimo come potete vedere veramente non ci sono sbavature nella pelle veramente fatta bene con il suo anellino per attaccarla poi abbiamo un bel fondo e questo lo trovate proprio nella sezione fondi c'è tutta una sezione con componenti varie fondi manici e quant'altro quindi lo trovate lì e questi bellissimi manici in metallo guardate sono veramente molto molto belli e ovviamente verranno usati per quello che sarà un progetto a sorpresa ma a sorpresa per tutti perché anch'io ancora non l'ho ben sviluppato in mente quindi comunque avrete un progetto a sorpresa mentre negli altri sapete già più o meno che cosa andremo a fare questo lo vedrete solo quando uscirà il tutorial e l'avrò realizzato più o meno diciamo che ho in testa un progettino ma lascio tutta la vostra immaginazione ovviamente se avete suggerimenti sapete che me li potete lasciare sul gruppo ora in descrizione io vi lascerò avvicino tutti i materiali perché sono degni di essere visti tutti 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 anche se non ci stanno tutti nell'inquadratura ma meritano veramente di stare tutti dentro nell'inquadratura tutti questi materiali ribadisco li ho acquistati da Federica Evaristo in trecci preziosi quindi troverete se digitate in trecci preziosi su google la trovate ha anche un suo profilo come Federica Evaristo su facebook e cosa dire è veramente sono veramente tutti i materiali di ottima qualità e troverete anche dei suoi tutorial già eseguiti con suoi materiali troverete questi e altri tantissimi progetti e materiali per borse veramente belle io avessi 200 mani li farei tutti per ora ho scelto di presentarvi questi e di prossimamente farvi vedere appunto i progetti con questi materiali non ho altro da dire perché si commentano da soli quindi io vi saluto saluto Federica ti stavo chiamando per cognome Fede saluto Federica che mi ha gentilmente concesso di usare i suoi materiali per i tutorial facendone anche lei di tutorial non era così scontato che mi desse il permesso quindi comunque è stata veramente molto gentile e a concedermi appunto di poter realizzare dei tutorial con i suoi materiali di potervi fare questa recensione e vi saluto tutti vi mando un bacione grande come al solito grazie sempre perché mi seguite un bacione ciao ciao da Luci a presto naturalmente in descrizione vi lascerò il link del sito e dei vari materiali baci ciao alla prossima ciao 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 Grazie a tutti